Allora, siamo qui al Convento di Ferrara. Padre Carmelo mi ha detto che non vi ha salutate, quindi vuole salutarvi. A te la parola. Vai. Bene, allora vi ringrazio di avermi lavato il camice tante volte. È un'era e stiamo uniti nella preghiera. Ci rivedremo, spero, in paradiso. Saluto di cuore a ognuno di voi, in un modo particolare, la superiore, e quella incaricata di pregare per me. Anche se vado via, può continuare a pregare per me. E io mi ricorderò di lei il più possibile. Ciao, saluti a tutta la comunità. Bene, abbiamo terminato. Saluti anche da parte mia e arriverà le giacche che ve le porterà il Nino. Ciao. Fermete. No, se ferma è mia.